ciao amici di fungo magia un saluto da macinator oggi è il 2 luglio del 2023 siamo immersi sempre in una fantastica faggeta e voglio fare una video dedica a un mio follower che mi segue sul canale di youtube il canale di macinator parliamo di luca guadalupi caro luca ti voglio dedicare un fantastico boletus estivalis come puoi vedere qui c'è un bel aperto c'è un bel ruscelletto con l'acqua che corre giù e guarda qui tutto per te massiccio questo è il mio cavallo di battaglia lo sai lo stacchiamo che meraviglia che bombazza che bombazza guarda qui che meraviglia caro luca guadalupi un abbraccione ciao dal mondo di fungo magia ciao da macinator a presto